L'anno 2020, il giorno 15 del mese di settembre, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i giudici della Corte Costituzionale. Dottor Angelo Buscema, eletto dalla Corte dei Conti il 12 luglio 2020. Io, Angelo Buscema, giuro sul mio onore di osservare lealmente la Costituzione e le altre regi dello Stato, necessitando le mie funzioni di giudici della Corte Costituzionale dell'interesse supremo della Nazione. Grazie. 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 Professoressa Emanuela Navarretta, nominata con decreto presidenziale 9 settembre 2020. Io, Emanuela Navarretta, giuro sul mio onore di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato, esercitando le mie funzioni di giudice della Corte Costituzionale nell'interesse supremo della nazione. Grazie. Grazie. Del giuramento dei giudici della Corte Costituzionale Angelo Buscema e Emanuela Navarretta, prestato oggi, 15 settembre 2020, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, sono stati redatti distinti verbali, firmati dai giuranti, dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati. Grazie. Grazie.